Si avvia la fase conclusiva all'inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento sul crollo del Palazzo Loiacono, sbriciolatosi al solo la mattina del 25 aprile 2011. Con il passare dei giorni emergono ulteriori particolari dell'intagine coordinata dai pubblici ministeri Santo Fornasier e Arianna Ciavattini. Oltre al sindaco Marco Zamputo, nella lista delle persone iscritte sull'egisto degli indagati figurano Giuseppe Principato, dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Calogero Tulumello, funzionario comunale, Attilio Sciara, capo della Protezione Civile Comunale, Gaspare Triassi, Marcello Cappellino e Andrea Patti, componenti del Collegio di Progettazione e Direzione dei Lavori Urgenti per la Messa in Sicurezza dell'Edificio. Tutti sono accusati a vario titolo di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi e di delitti colposi. La responsabilità che la Procura attribuisce ai tecnici è quella di aver effettuato tra il luglio 2008 a luglio 2009 interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza con grave negligenza e imperizia. La negligenza sarebbe stata ravvisata nella mancanza di un progetto esecutivo e delle opere di consolidamento da effettuare e di fatto mai realizzate. Interventi da attuare che non sarebbero stati mai sottoposti alla valutazione della soprendentenza e beni culturali che gestiva il vincolo sull'antico edificio barocco e al Dipartimento regionale della Protezione Civile che aveva finanziato i lavori. L'imperizia, secondo la Procura, è invece ravvisabile nell'inefficacia dei primi interventi di messa in sicurezza e della dannosità del secondo intervento che ne avrebbe pregiudicato l'aggravamento delle condizioni di stabilità del palazzo tanto da provocarne il crollo. Sul conto del sindaco Zambuto, finito tra gli intagati per i suoi poteri di protezione civile, ci sarebbe un'eventuale responsabilità nell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e controllo sull'operato dei funzionari comunali.